A Lago Blu è il Warrior of Fight Shop, Gioacchino Cibaglia! Un istruttore di moto, entra Leonardo Resci! Anche per questo match sono previsti tre round a due minuti, arriva Andrea Bruni. Vai, Gioacchino! Ascolta qua Gioacchino! Avronta noi! Dai Gioacchino! Staière ascolto! Vai Gioacchino! Vai Gioacchino! Lascia quella testa giù, lascia quella testa, lascia la testa, lascia la testa, non fa nulla Aspetta giù, lascia la testa, lascia la testa, lascia la cerchio Corti la destra mi trovi da giù stai giù, metti il ginocchio bravo ginocchio forte destra, destra bravo respira ok il tuo destro è il ginocchio il tuo destro 10 secondi stacca bravo 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 Stai vai vossa va bene behavi è la tua zona vossa, è casa tua bravo bravo fermate guarda 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 attenta a quel braccio costura e scarica costura e scarica prendi la gamba stira il braccio stira il braccio Maggio costura e colpisci Maggio hai due e colpisci costura e passa è tuo rientra trenta secondi rientra dentro spalla destra dentro spalla destra dentro bene bravo di nuovo Fate, fate con quella gamba, 10 minuti, 10 minuti, scarica l'altro po', vai, sentono giù, bravi, bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bra state tranquillo no ci vinci, fuori e di porta manco un minuto Joe e prima a sinistra Vincita! Vai Leo! Libera! Libera! Leov! Libera! Libera! Cero il tuo braccio! Vincita! E prima il sinistra! Dai Leo! Dai Leo! Libera quel coso! E prima il sinistra! E prima il sinistra! Forza haia Gio! Tutto o destro! E nel sinistro serMarca! Vinci via! Vai vai metti la gamba! VincitaEE! Vai vai! Vincita来了! 20 secondi vince Gioacchino Cea